Marcioni ha detto che ha fiducia in Renzi, però per ora mancano ancora i risultati. Come risponde? I risultati non possono che essere coerenti e conseguenti alle scelte che abbiamo fatto. Io continuo a pensare che se analizziamo con puntualità tutte le cose che questo governo ha fatto da quando si è insediato, la quantità di decisioni assunte è assolutamente rilevante e non faccio l'elenco ma sono tutte molto importanti e hanno tutte un segno che è di crescita e di equità. C'è da cambiare, c'è da cambiare radicalmente, noi lo vogliamo fare, per farlo abbiamo bisogno di mettere mano a tantissime cose e quindi abbiamo cominciato, lo facciamo in maniera sistematica e la cosa che deve essere chiara, almeno per noi lo è, non è che possiamo procedere a zig zag e cambiare direzione tutte le volte che esce lo 0-1 di qui o lo 0-1 di là. Una situazione complessa che è profondamente radicata in questo paese, si cambia cambiando radicalmente tutte le cose che vanno cambiate e noi da questo punto di vista siamo molto determinati, molto decisi e lo faremo.